Trasferta, località Terni, poi alla guida, alla guida Luca Cherubini-Shelley, numero uno Alla destra, alla destra con il ruolo di terzino attaccante Gambinelli-Dagliere, numero due Al centro, libero, è libero, cazzo, lui è Sergio Grazie ragazzi, ieri sera una grandissima vittoria Senza te, ovviamente Grandissima vittoria, 8-4, dominando e anche facendo i prepotenti Ieri sera non ce ne sto per nessuno